buongiorno a tutti ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video pre partita per il napoli domani inizia la champions league per gli azzurri di rudy garcia e io personalmente sono abbastanza preoccupato non per l'avversario in sé ma per il momento per gli spifferi che si leggono a destra e sinistra per l'umore di molti tifosi incluso il mio è insomma un pre partita abbastanza particolare però prima ragazzi vi invito come sempre a iscrivervi al canale condividere il video lasciate tantissimo mi piace se il video vi dovesse piacere inoltre cliccate sulla campanellina per ricevere aggiornamenti e in descrizione troverete il link di tutti i miei social soprattutto instagram e twitch dove faccio le live tutti i giorni poi dipende dal programma settimanale che pubblicherò su instagram e stasera sarò in live sia per guardare e commentare milan e lazio ma anche per vedere la conferenza stampa di rudy garcia che farà alle 8 di sera 8 meno 10 garcia insieme a un altro giocatore quindi questo pre partita non fa cioè non parlerò della conferenza stampa che purtroppo non posso andare nel futuro però voglio parlare un po del momento momento delicato un momento che purtroppo vige il buonismo vige il criticare sempre il prossimo vige che non sa da proprio criticare cioè se uno muove una critica e se il vasto difuso e ma pecchi di fiducia e ma è così e ma colà oppure muove una critica e poi non salire sul carro ragazzi allora abbiamo fatto due vittorie una sconfitta che brucia ancora oggi a distanza di due settimane e poco più e poi un pareggio che avresti perso cioè se non fosse stato per quelle giocate singole e non per un gioco cioè non è stata un'azione offensiva ma sono state due azioni singole di giocate di singoli la potevi perdere tranquillamente la partita a genova ok quindi non è un problema di risultato quella di genova e neanche quella con la lazio che perde con la lazio ripeto ci sta ma è un problema di prestazioni prestazioni che sono lontane anni luce da quelle con spalletti e io lo ripeto ancora una volta io non pretendevo vincere ok perché confermarsi è più difficile ok che essere un outsider ok è difficilissimo però quantomeno difendere onorare rispettare il tricolore e garcia dal mio punto di vista non lo sta facendo cioè la sostituzione cavaraschelia zerbinna l'ottantottesimo io devo ancora capire a distanza dei giorni che cazzo mi significa che poi molti sottovalutano cavaraschelia che fa sto gesto qualcuno dice è un gesto da campo un gesto di nervosismo pure cavaraschelia l'anno scorso fu sostituito diverse volte parecchie volte ha fatto un gesto così verso spalletti no quindi qualcosa non va e questo è questo qualcosa che non va si può racchiudere anche in diversi mormori che leggo da parte di chiariello da parte di alcuni di alcuni personaggi nel web ok non di youtuber insider ma di giornalisti opinionisti eccetera ok che dicono che molti giocatori stanno facendo fatica a stare dietro a garcia perché lui punterebbe sugli allenamenti più sulla potenza sulla velocità sulla resistenza fisica e poco sulla tattica ok quindi questo è una cosa da non sottovalutare un'altra cosa da non sottovalutare è modugno giornalista sky che ha detto che de laurentis è preoccupatissimo ma non è che modugno è l'ultimo fesso però come si sa modugno e la famiglia modugno è molto vicina a de laurentis e se modugno dice una cosa del genere che de laurentis è preoccupato che tra parentesi de laurentis non manca braga ma sta a napoli cioè un presidente dovrebbe sta vicino alla squadra invece vabbè non parliamo di questo però se de laurentis è preoccupato vuol dire che ci sta ripensando vuol dire che si sta pentendo perché garcia alla fine della fine è una scommessa era una scommessa un allenatore che è stato esonerato dalla rabbia al di là del fatto che non è stato esonerato ma ha riscisso perché lui non voleva cristiano ronaldo però comunque se ne aiuto dalla rabbia ed è stato un anno e mezzo senza allenare e dall'europa mancava da dieci anni quasi se non erro io ho due calcoli due preoccupazioni a quando è stato ufficializzato me li sarei fatti e io me li sono fatti le preoccupazioni e mi hanno buttato merda ovunque mia io non mi ricordo che quei commenti di merda quei commenti tu non capisci niente vai fiducia qua fiducia la certo la fiducia sta alla base ma anche adesso anche oggi tengo fiducia su garcia però una fiducia a tempo è una fiducia a tempo io metto subito sempre le mani avanti perché non vorrei che poi dopo ma come prima non eri fiducioso va bene che poi non cambia un cazzo cioè adesso critico però adesso mi mi scrivono mi dicono e ma dopo non sali sul car non salire sul carro se tutto va bene oddio va bene è un po paradossale attualmente io ragazzi io non so se garcia mangerà il panettone non lo so non lo so però sicuramente se ottobre è il mese chiave ottobre mese chiave con fiorentina milan real madrid è un mese chiave è un mese chiave ma già se fatichi col braga qualcosa qualcosa non va se domani dovessimo vincere ok se domani io lo dico lo dico non iniziamo ad esaltare non iniziamo a dire e mi hai visto ci vuole la fiducia non iniziate ad automettervi la sabbia sugli occhi perché una rondine non fa primavera lo stesso discorso che ho fatto ieri a un tifoso della roma riguardo a roma empoli 7 a 0 si bella roma ma con l'empoli un lembol che è una chiave che squadra tu devi continuare con le prestazioni che poi se domani dovessi vincere 1 a 0 e fare una prestazione di merda io mi incazzo e veramente pure si incazzerà perché pure storicamente lui ha citato sempre bel gioco un gioco divertente un gioco fluido un gioco efficace perché questo napoli storicamente già dai tempi di benitez era un napoli che era votato al divertirsi e al divertire con belle prestazioni e garcia più che farci divertire ci faccia ci sta facendo in questo caso io l'altro ieri ho fatto un post su garcia io ho citato ho detto una frase in napoletano non so se qualcuno se l'ho riportata pure in un video in live si in post si ma non mi ricordo se l'ho detto in quale video però la ripeto e tra su te sic e se voluto mettere i chat mi pare già l'ho detta sta cosa e la ripeto perché è quella che che sto notando quindi raga io sono preoccupato per domani e per bologna io vado sempre avanti però pensiamo prima al braga il braga vai io se perdi o pareggi una figura è merda che braga vai io è 100 mila volte più debole di noi qualitativamente singolarmente più debole di noi garcia parla di motivazioni parla di motivazioni in conferenza saldiate fatto che dopo il genoa si è misa a ridere una domanda seria e mi ha fatto già è da quella risata ho detto no saldi sonnerà perché un allenatore che ride dinanzi a una domanda seria dopo un pareggio avvenuto per giocata dei singoli non sono scena non sono scena comunque tu devi vincere domani punto devi vincere e convincere perché braga ripete più debole di noi perché nell'ultima giornata di campionata ha buscato 3 a 1 con una squadra e merda io ripeto bisogna vincere e convincere se vinci 1 a 0 2 a 0 stream in sito ma giocando di merda io non mi esalto ma pure se vinci automaticamente io non mi esalto perché tu devi dare continuità mamma mia mamma mia io per carità io non spero mettiamo le cose in chiaro voglio che già qualcuno qualche mente malata la pensa sta cosa ovvero che pensa che io speri che garcia faccia cagare così io dico avete visto ho avuto ragione avete visto così con la no io spero sempre garcia diventi un pochino umile ok non arrogante per imporre subito le sue idee ok e inizi a macinare gioco e risultati però secondo gli spifferi gli spifferi voglio mi fanno preoccupare le cose come stanno gli spifferi mi fanno preoccupare con giocatori che non volevano garcia e queste voci stanno mentando sempre di più io non sottovaluterei non sottovaluterei questi spifferi perché di solito in napoli non fa trapellare nulla ve lo ricordo in napoli non fa trapellare mai nulla ma se iniziano questi spifferi lo dice una persona due persone lo dicono dieci venti trenta sono più che spifferi sono più che spifferi forza napoli sempre speriamo per domani vi aspetto stanza in live per vedere garcia cosa dirà in conferenza stampa ciao a you